Hey la ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono JD e finalmente siamo tornati Vi spiego un attimino cosa sta succedendo Allora, questi qui sono gli ultimi 8 giorni di scuola, va bene, saltando le festività E io sto studiando come un dannato mulo Ho ogni giorno più di un compito e di conseguenza faccio un po' fatica a fare video E quindi anche a caricarli e quindi sono due settimane che non faccio un cazzo di niente In più l'ultimo video di Berlino non l'ho caricato perché ho visto che il penultimo non ha fatto molte visual Però se volete basta che me lo scrivete qui sotto nei commenti e dite Guarda, io in realtà vorrei finire di vedere che cazzo hai fatto Berlino perché mi piace, perché mi interessa, perché E io ve lo porto Allora, volevo fare ancora una piccola premessa Quest'estate io poi dovrei stare via un po' di tempo E in realtà vorrei iniziare anche a cercare un lavoro part time Giusto per mettermi da parte un po' di soldi Quindi anche qui la produzione sarà di meno Ovviamente io fino al 21 di giugno studierò un sacco Quindi fino al 21 vedrete pochi video Dopo il 21, cioè no in realtà dopo il giorno in cui finisco gli orali Che non so quando sia perché non so ancora quando con le lettere verrà estratte eccetera E bingo Dopo che finiranno gli orali per l'appunto cercherò di caricare più video Il problema è sempre che io vorrei comunque arrivare a un certo obiettivo Ho visto che, vabbè, nonostante io non abbia caricato video per due settimane Gli iscritti sono rimasti sempre gli stessi E questo mi rende molto, 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 molto orgogliosa Mi rende molto orgogliona E però mi piacerebbe arrivare oltre i 200 iscritti Quindi ne mancherebbero ancora circa 23 E sarebbe un altro grandissimo obiettivo per me Perché vorrei portarvi delle live Ma come avete visto nell'unica live che ho fatto Internet va giusto giusto un pochino male Giusto giusto E infatti Non potrò fare delle live Vorrei portarvi comunque altri giochi Che non siano solo Creativerse Vorrei provare a portare un po' di Terraria E magari qualcos'altro di Minecraft Vanilla Perché mi hanno detto che comunque ad alcuni piaceva E volevo che la continuassi Così sono saluto i miei compagni di scuola Che mi dicono Ma Giorgia, ma perché hai smesso di fare la Vanilla? Perché mi faceva un po' gagare Ma se volete la riporto Cioè non è quello il problema E in più Se non raggiungo questo obiettivo Diciamo Non credo di poter Non credo di poter portare avanti più di tanto la Questa cosa con YouTube Anche perché Adesso inizierò l'università Va bene che avrò più tempo Ma se continuo a vedere che a voi Cioè Ma basta Hai rotto il Scusami Ricominciamo Se vedo che comunque voi ci siete Come iscritti Mi farebbe molto piacere Se le visual fossero Almeno almeno Un terzo degli iscritti Che ho Cioè Mi farebbe anche felice Perché dico Caspita Io mi impegno tanto E poi non ricevo niente Cioè lo so che In realtà È una cosa per far felice gli altri Però almeno Vedere che vi faccia felice È un minimo Cioè Mi farebbe anche un minimo piacere Perché Dici Caspita Io ho 177 iscritti Io lo faccio con il cuore Però poi vedo che Nessuno alla fine Mi caga più di tanto E dico Ma caspita Allora che senso ha Avere Tutti Tutti questi iscritti Se poi alla fine Non mi guardano E questo è un problema Di tutti i canali Piccoli Come i miei Che hanno iniziato da Più di un anno E che dopo un po' Dicono Caspita Ma se non porto risultati Allora voglio che faccia un po' cacare Quindi Io Con questo piccolo Video Vi chiederei Per favore Se guardate Questi video Di commentare Ma anche Solo lasciare un mi piace E comunque Far conoscere a qualcun altro Questo canale Sempre se vi piaccio Perché in realtà Se siete miei iscritti Dovrei piacervi Cioè Mi farebbe Mi farebbe davvero Un sacco felice E niente Mi piacerebbe anche Tipo Non lo so Su Brawlalla Se Mi ricordo Dove ho messo il cavo Per il controller Della play Mi piacerebbe fare dei tornei con voi Cioè sarebbe la cosa più figa del mondo Però Come sempre Se voi non ci siete Io che faccio Quindi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel like Commentate Soprattutto Commentate Soprattutto Commentate Soprattutto Condividete E soprattutto Iscrivetevi Molto soprattutto Iscrivetevi Commentate Condividete E noi ci rivediamo Spero moltissimo In un prossimo video Sempre qui Con Jodie Mi piace un sacco Questa ria Sono troppo contenta Di averla inventata